buongiorno buongiorno cari ben ritrovati a distanza di poche ore visto che ieri sera abbiamo fatto il confronto dei programmi per chi non ho ancora visto dovrebbe uscire domani mattina buongiorno a tutti ben ritrovati mettete like condividete la diretta e se ne avete la possibilità sostenete il canale con un abbonamento buongiorno 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 vedo già demogorgone improntato subito sulla questione live di ieri sera assolutamente ottima live buongiorno stefano mary jo fantastico i disegnini ecco vedo che ci sono due persone che mi chiedevano dei disegnini mi ha fatti questo ragazzo anzi forse è opportuno dargli la visibilità che merita visto che comunque ha fatto un ottimo lavoro meno per quanto mi riguarda ed è comunque un professionista da questo punto di vista ha già fatto tante cose per il cerbero anzi se è stato just cazzatine che me la che me l'ha consigliato quindi ringrazio chiaramente ma ancora ormai parliamo di un anno e mezzo fa quindi la sigla non è nuova ecco è lui sostanzialmente quindi questi disegnini ricalcano molto proprio il lo stile poi che ha la sigla di questo canale detto ciò oggi andiamo a vedere appunto il perché nos versione europea allora io su nos ho già fatto quindi diciamo tutto il in tutta l'analisi per quanto riguarda l'altro perché nos versione italia a questo giro andremo a vederci appunto la versione europea è lo stesso diciamo framework che avevamo già visto quindi diciamo una situazione di gamification in cui loro ci chiedono appunto la nostra posizione ci chiedono poi di inserire la nostra mail per raccogliere appunto contatti e quindi in buona sostanza alla fine ci raccontano la loro visione è un qualcosa che io apprezzo l'avevo già detto l'altra volta però ci tengo a ribadirlo perché comunque denota un approccio molto diverso molto più fresco rispetto ad altri ad partiti e devo dire che nos come l'avevamo visto qualche mese fa ecco oggi presenta una situazione sicuramente migliore posto che comunque aveva delle caratteristiche interessanti aveva dei punti di criticità ci mancherebbe io avevo sottolineati se siete interessati andate a recuperare l'altro video tuttavia noto un evidente miglioramento questo va detto tra l'altro vi ricordo anche che guida il voto uscito lo trovate su amazon 7 euro oppure gratis per chi ha kindle unlimited qua sotto troverete tutti i link lo ricordo perché comunque un progetto che secondo me vale la pena recuperare negli ultimi giorni prima delle elezioni è una lettura che si fa in mezzo pomeriggio quindi ve la consiglio sì già come dice che hanno pubblicato anche un drive con le proposte assolutamente magari va la pena dare visibilità a questo drive io me lo sono già spulciato praticamente tutto infatti se voi cliccate qua sulle proposte tra l'altro trovate anche dei miei commenti questo non va che cosa ecco avete diciamo tutti tutto il drive loro personale si si vede soltanto loro e non il mio vedete qua i miei 83 giga si ci sono tutta una serie di elementi molto interessanti che riguardano il congelo di paternità una vera difesa europea il potenziamento dell'its via discorrendo io mi sono permesso di commentare la riforma dei taxi il congelo di paternità e tutto quello che riguarda diciamo il lavoro ma salario minimo è nuovo però è avevo visto devo recuperarmelo quindi evidentemente c'è c'è molto fermento da questo punto di vista quindi ben venga da questo punto di vista avere un approccio molto più trasparente come dicevo già ieri azione questa cosa ha perso di farla secondo me è un vero malus detto in tutta onestà nos invece sta migliorando da questo punto di vista e secondo me è un punto in più un punto di trasparenza un punto anche di di competenza loro hanno poi anche un podcast che va in onda tutte le mattine c'è tommasi che fa questi sei minuti chiaramente anche qui proposte e chi le propone è importante da valutare questo aspetto io ho qualche perplessità ecco però qua non ci tornerei sopra perché altrimenti facciamo notte ciao siamo nos ci raccontano sempre la solita storia più o meno siamo il primo media partito vogliamo cambiare la politica italiana a partire le prossime elezioni europee loro si sono candidati nella lista siamo europei quindi all'interno con la lista di azione a differenza della politica tradizionale vogliamo fare qualcosa di davvero utile quindi diciamo lo stesso claim dell'altra volta l'unica cosa che hanno aggiunto forse questo punto se non vado errato per comunicare le nostre idee riteniamo utile scrivere fiumi d'inchiostro programmi che nessuna persona legge e che partiti spera non vengano mai letti per questo abbiamo ideato il perché nostro europeo che ti aiuterà a capire se siamo compatibili in vista delle prossime elezioni rispondi al test e scopri quanto le tue idee sull'unione europea siano vicine a quelle di nos e non e non preoccuparti se il nostro non è perfect match ti spiegheremo il motivo io come l'altra volta metterei non ho una posizione forte ecco questa questa cosa qua non è stata cambiata se io metto sempre non ho una posizione forte arrivo a comunque una una situazione diciamo abbastanza interessante ecco cioè praticamente siamo vicini a siamo europei al 55 per cento eppure ho semplicemente esposto una posizione diciamo non particolarmente polarizzata ecco qui appunto come vi dicevo possiamo inserire la mail se vogliamo attivarci se vogliamo entrare nei vari gruppi eccetera eccetera insomma lo spiegano loro meglio di me ecco come la pensiamo che la cosa che ci interessa infatti loro dicono che la politica è sentimento ma ci sono anche i dati anche qua fa piacere tuttavia certe volte sui dati o qualche perplessità rispetto a quelli che propongono partiamo col primo punto sei favorevole lo sostegno dell'unione europea all'ucraina contro l'aggressione russa ecco questo è un punto interessante perché durante un meetup di nos a brescia c'era stata questa domanda e mi sembrava che tommasivo fosse spuggito un po alla questione in particolare una persona aveva avanzato tutta una serie di fake news sull'ucraina e il buon tommasi semplicemente non ha non ha contro argomentato ci può stare un momento per farsi conoscere capisco anche la situazione molto democristiana quindi non ha molto senso fare le pulci alla persona che abbiamo di fronte soprattutto la luce del fatto che comunque nos all'inizio non aveva una posizione sull'ucraina almeno io mi ricordo che diciamo le posizioni espresse erano molto anacquate ecco quanto meno indefinite opache invece qui vediamo una prima posizione estremamente diversa siamo europei in ossazione infatti lo mette a primo punto quindi la difesa dell'ucraina per loro è primo punto loro dicono what dal 24 febbraio 2022 l'ucraina sta coraggiosamente resistendo all'invanzione russa per continuare a combattere l'ucraina bisogno di molte di molto sostegno economico umanitario militare e chiaramente qui riportano dati relativi ai 143 miliardi di euro a sostegno dell'ucraina e della sua popolazione cosa vogliono fare sostanzialmente vogliono impegnarsi a sostenere l'ucraina attraverso l'unione europea e assicurare i mezzi necessari per contrastare l'aggressione russa va bene cioè ci sta quali sono questi mezzi necessari forse ce lo spiegano andando oltre ci dice che la difesa dell'ucraina deve essere per un passo verso una politica estero europea più strutturata ed efficace va benissimo ci sta spero che nel corso diciamo di questo perché nos ci dicano anche quali sono le altre nazioni che vorrebbero coinvolgere all'interno dell'unione europea soprattutto pensiamo la giorgia la transnistria la situazione in moldavia insomma lì loro come si posizionano la questione palestinese come si posizionano ecco secondo me quando uno parla di politica estera soprattutto in questa situazione particolare in cui il mondo vede molte zone di conflitto avere degli effetti sull'unione europea e pensiamo semplicemente la questione dello yemen quindi ai vari stretti quello appunto di bad el mandeb se lo pronuncio in modo corretto sicuramente no e appunto lo stretto di suez ecco lì abbiamo una situazione abbastanza particolare e comunque ha un effetto sul costo delle materie prime che partono da oriente e arrivano fino a occidente chiaramente c'è anche la situazione siriana no che è coinvolta appunto nella questione medio orientale non è di facile lettura chiaramente anche qui e banalmente ci si aspetta quantomeno che i partiti politici si espongano su questi temi ma vedo che non c'è una grande esposizione tuttavia qui mi sembrano abbastanza chiari manca se proprio uno vuole farci le pulci questi mezzi necessari cosa serve insomma come facciamo a produrre effettivamente qualcosa che non abbiamo dove dovremmo andare dove troviamo le risorse eccetera 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 esatto artemis dice ci sono troppe domande generiche forse queste domande generiche non vale la pena neanche perderci troppo tempo può essere se favorevole una maggioranza a una maggiore integrazione nel campo della difesa fino a sviluppare una difesa comune europea punto di domanda beh loro dicono sostanzialmente che la spesa è importante infatti all'interno dell'unione europea la spesa di 240 miliardi di euro oltre a spendere meno delle altre superpotenze mondiali la spesa militare europea è meno efficiente in quanto ogni stato persegue persegue la propria politica di difesa di conseguenza vi sono standard equipaggiamenti diversi tra i vari eserciti europei oltre ad acquisti che non vengono effettuati congiuntamente di conseguenza l'industria europea della difesa risulta frammentata potendo soffrire di economie di scala ridotte questo limita la crescita delle aziende del settore non a caso la spesa dei paesi membri per l'acquisto degli armamenti va all'80 per cento ad aziende extra way e al 60 per cento ad aziende americane questo è nì nel senso che non diventa non dipende da ciò dipende in larga misura anche dalla struttura proprio dei come vedevamo nel video dedicato proprio alla difesa europea lì ho fatto un'analisi un pochino più seria per quanto riguarda l'economia dipende anche soprattutto dalla struttura dimensionale delle imprese coinvolte appunto in questo settore e soprattutto dai regimi di monopolio che si sono un po venuti a creare nel tempo e quindi abbiamo una struttura per cui c'è grande differenza di dimensionamento di queste imprese e tutto ciò potrebbe essere alla base del fatto che appunto si vadano a cercare armamenti in giro per il mondo qua un punto importante da sottolineare che nei paper che discutono questo tema in particolare io non ho citato uno l'ultima volta legato appunto a uno studio della commissione del parlamento europeo lo cito anche nel libro qui dal voto 2024 si fa evidenza che appunto l'efficientamento riguarderebbe soprattutto i paesi più piccoli e non i paesi più grandi ecco questo è un elemento importante probabilmente per i paesi più grandi inizialmente potrebbe esserci anche un costo di transizione quindi va previsto anche un certo adeguamento nel momento in cui diciamo di passare dallo stato A allo stato B cioè ci sono dei costi chiaramente poi questi costi vengono recuperati nel medio lungo periodo chiaramente sia efficiente via discorrendo però la cosa non è appunto un pasto gratis va considerato questo aspetto altro tema interessante riguarda sicuramente il fatto che ci sono già dei progetti volti a migliorare gli investimenti e l'approvvigionamento io cito sempre la pesco perché è quello che secondo me è andato meglio di tutti tuttavia anche questi elementi ci raccontano appunto di uno scarso efficientamento quindi andrebbe migliorata quell'esperienza andrebbe rivista andrebbero guardati appunto i dati da questo punto di vista qui appunto ci dicono che il conflitto in corso tra russia ucraina evidenziato l'urgenza per lo e di rafforzare la propria strategia di difesa aumentare la capacità industriale chiaramente qui fatto di non avere una buona industria da questo punto di vista rallenta notevolmente la capacità di produrre appunto aiuti veri reali per l'ucraina infatti se andiamo a vedere chi è che ha aiutato di più l'ucraina ci accorgiamo che sono gli stati uniti d'america e non certo appunto paesi come l'italia quindi anche qui è la solita vulgata che gira online per cui l'italia manda chissà quali armamenti magari ne manda anche chissà quali però capite bene che ha uno sputo del mare quello italiano rispetto a tutto il resto anzi noi siamo in ritardo rispetto alle promesse fatte ma questo tema l'abbiamo già affrontato con mirko ormai un anno e mezzo fa ormai penso che tutti siano d'accordo con quella nostra con quella nostra argomentazione il punto è che bisognava accorgersene appunto un anno e mezzo fa per far pressione mi discorrendo chiaramente non è che siano stati gli unici noi che siano stati dei geni c'erano persone molto più autorevoli di noi e molto più esperti di noi sul tema ad esempio michael koffman che lo faceva faceva già notare la questione appunto un anno e mezzo fa e poi è stato ripreso anche da cecilia sala sei sette mesi sei sette mesi fa circa una cosa di questo tipo e forse da lì si è fatta più divulgazione sul tema e quindi le persone hanno iniziato a ragionare su questo aspetto almeno questa è la mia interpretazione potrebbe essere invece che la cosa sia andata in modo diverso rispetto alla trasmissione dell'informazione la recente proposta della commissione prevede uno stanziamento di 1.5 miliardi di euro per l'european defense investment program edip oltre al raggiungimento di determinati obiettivi industriali 1.5 miliardi se torniamo indietro a questi 240 miliardi di speso se torniamo indietro questi 143 che vengono citati capite bene essere ancora un'altra volta uno sputo nel mare sosteniamo l'implementazione di strategie di difesa europee più integrate standardizzate efficienti che possano ridurre le spese e aumentare l'efficacia nel rispondere a minacce comuni il raggiungimento degli obiettivi citati dalla commissione sono prioritarie ma sono necessari finanziamenti più ingenti per progetti di difesa comune anche attraverso le missioni di euro bond va bene possiamo essere più o meno d'accordo da questo punto di vista manca tutta la parte che invece prodi evidenziava ripeto secondo me è una pietra migliare quel video penso che sia uno della mia top 10 dei video più più interessanti che abbia visto sul tema della difesa ecco prodi secondo me la dice lunga c'è la francia che si deve togliere dall'onu ci deve stare l'unione europea bisogna azzerare completamente l'autonomia in termini di difesa e politica estera di tutti gli stati dell'unione se effettivamente vogliamo fare una politica estera dell'unione europea altrimenti sarà sempre un qualcosa che non è appunto né zuppa né pambagnato anzi è zuppa e pambagnato per fare appunto una metafora anche abbastanza mal riuscita però direi proprio che se non agiamo come unica entità c'è poco da raccontarcela perché altrimenti che ne so borrel va in giro a dire una cosa e poi magicamente si alza un bel giorno scholz e ne dice un'altra oppure si alza pedro sanchez e ne dice un'altra e chissà a chi dobbiamo stare a sentire umberto due punti prodi aveva capito tutto ma io non sono molto d'accordo con questa tesi io sono molto d'accordo su un'altra prodi ora che non è più un personaggio politico ma è semplicemente un personaggio pubblico può esporre le sue idee in modo molto più trasparente sarebbe stato piacevole assistere a queste dichiarazioni 40 anni fa 40 anni fa è stato fatto no ok 30 anni fa nemmeno 20 anni fa neanche 10 no 5 no e via discorrendo mi sembra che comunque questa questa idea di prodi sia scarsamente condivisa a livello anche del partito democratico quindi staremo a vedere un po come andrà a finire sei favorevole alla crescita di nuovo debito comune europeo sulla scia del next new per finanziare le future sfide comuni esempio difesa transizione ambientale eccetera 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 loro sono stra d'accordo perché perché dicono che prima di luglio 20 20 l'idea di un debito comune europeo sembrava irrealizzabile ecco questa è una frase falsa in verità basta spulciarsi la letteratura basta spulciarsi diciamo le minute del parlamento europeo e via discorrendo questa idea è sempre stata presente qualcuno si ricorda i tre monti bond anche gli euro bond di tre monti o qualcuno si ricorda gli sbs oppure qualcuno si ricorda diciamo altre esperienze di debito comune europeo non è vero che il debito comune europeo non esisteva prima del 2019 prima del 2020 scusate esisteva aveva la sua struttura il mess o se preferite il fondo salva stati all'epoca era già attivo è quello sostanzialmente il debito comune europeo quindi dire questa cosa è sostanzialmente un falso ecco cioè sembra quasi che il 2020 ci siamo svegliati tutti studati mi detto ah ci serve uno strumento ora creiamo la via discorrendo non è vero c'era tant'è vero che il modello di next gen eu si basa in parte sul back to back come ho già spiegato anche nel libro che è appunto quel debito comune europeo ci sono poi tante metodologie ripeto per affrontarlo ok ci sono tanti strumenti noi abbiamo scelto appunto di prendere lo strumento del mess coobbligare tutti i paesi dell'unione europea mettere il bilancio dell'unione europea garanzia e siamo andati oltre adesso stretta stretta e raccontata male sia su pagella politica che nel video sul debito comune europeo ne ho parlato più nel dettaglio quindi sì c'è stata una grande variazione nell'entità ok di questo debito comune europeo appunto si è arrivati a questi 750 miliardi di euro andando oltre oggi l'unione europea è di fronte a una nuova sfida come la transizione energetica necessità di una difesa comune europea e la trasformazione economica dettata dal cambiamento geopolitico in corso queste sfide necessitano di un notevole flusso di investimenti quindi data la complessità di queste sfide di investimenti richiesti i singoli paesi membri non possono affrontare autonomamente queste sfide e quindi essenziale una risposta europea coordinata e collettiva qui ho qualche perplessità perché chiaramente ci sono tanti paesi direi la maggior parte che in realtà si finanziano a un costo del debito notevolmente inferiore rispetto a quello dell'unione europea e l'unico modo per ridurre questo costo del debito è avere un federalismo fiscale comunque capacità fiscale da parte dell'unione europea di imporre appunto le proprie tasse a cittadini e imprese questa cosa non viene promossa almeno per ora non abbiamo evidenza poi magari la vediamo scritta in qualche altro punto da nessun partito accenna brevemente questo fatto stati uniti d'europa ma non lo dettaglia più nel concreto quindi diciamo che la cosa abbastanza opaca data la complessità appunto si va avanti e loro dicono siamo favorevoli a creazione di nuovo debito comune europeo per finanziare gli investimenti necessari a affrontare le sfide comuni sì ci sta dal punto di vista degli italiani perché ripeto gli italiani pagano tantissimo il proprio debito pubblico molto più rispetto alle compagini europee spread insomma dice qualcosa andando oltre e vengo alla chat c'è chi mi chiede perché i titoletti in inglese boh non lo so penso per sentirsi un pochino più vicini all'idea di europa unita può essere a quel punto avrei proposto un doppio perché no una versione italiana un'altra versione inglese poteva avere senso ma a quale video di prodi ti riferisci all'intervista fatta da forchelli e boldrin appunto prodi lo trovi sul canale di michele boldrin si parla poi di aspetta non me lo sono perso no si parla poi di abolizione del diritto di veto anche qui bisogna passare dal consiglio loro sono abbastanza d'accordo parlano appunto del fatto che il consiglio di unione europea deve votare all'unanimità su una serie di questioni considerate sensibili mi fa piacere che dice che riporti non su una serie di questioni e non su tutte perché appunto c'è esiste il voto maggioranza qualificata la politica estera la sicurezza comune o la finanza nell'ue recentemente l'ungheria aveva posto il veto sull'invio di 50 miliardi di euro di fondi europei all'ucraina infatti il voto all'unanimità nell'ambito del consiglio viene spesso utilizzato come mezzo di ricatto da parte di alcuni stati membri soprattutto su temi più urgenti e delicati va detto anche che l'italia fa ricorso questo a questo veto più volte ha fatto ricorso questo spesso porta compromessi al ribasso a concessioni verso i paesi ricattati ricattanti scusatemi sosteniamo l'abolizione del meccanismo di voto all'unanimità boh non capisco perché citare un altro paese che tutto sommato fa lo stesso nostro gioco quindi vabbè ok forse questo è per inseguire quella retorica per cui l'ungheria è brutta e cattiva e noi siamo migliori sei favorevole al rafforzamento dei poteri del parlamento europeo esempio potere di iniziativa legislativa qui loro ci dicono appunto che il parlamento europeo ha un ruolo marginale ne parlavo anche ieri sera perché appunto abbiamo questa situazione in cui il consiglio può fare il bello e il cattivo tempo come detto nel punto precedente inoltre in alcune aree politiche sensibili come l'approvazione del bilancio lungo termine del lui il parlamento un ruolo veramente consultivo ancora più marginale il ruolo del parlamento nella definizione della politica essere di sicurezza comune boh non lo so se voglio vedere un parlamento che ha un ruolo preponderante nella politica estera e di sicurezza comune dipende ecco cosa intendiamo e ho paura che poi diventi diciamo situazione senza senza una chiara soluzione perché poi anche qui non è che se tu hai appunto se tu togli il veto allora diventa un mondo rose e fiori eh nel senso hai tolto uno dei tanti ostacoli perché altrimenti ci verrebbe da dire ok quindi in italia non c'è questo problema no invece ce l'abbiamo questo problema quindi stiamo attenti anche cioè nel senso vorrei che passasse questo elemento insordina per cui una volta tolto il diritto di veto una volta potenziato appunto il potere legislativo del parlamento non abbiamo più problemi di sorta non ci sono più elementi di contrasto e i colli di bottiglia sono stati eliminati magari funzionasse così comunque sul diritto di veto ne abbiamo parlato a bizzeffe vogliamo mettere il parlamento al centro di tutti i processi decisionali dell'unione europea il parlamento dovrebbe godere il diritto di iniziativa normativa e di status pari a quello delle altre istituzioni in tutte le aree politiche va bene insomma è un'idea sei vaporevole alle elezioni dirette del presidente della commissione europea qui mi sembra che loro non abbiano una posizione forte infatti ce lo dicono a differenza invece di altri partiti la procedura dello spitz and candidat cos'è che è lo spitz and candidat praticamente è un po come avviene in italia che viene disegnato questo capo politico no all'epoca era di maio renzi salvini meloni e vi discorrendo ecco cosa succede succede che praticamente tu una volta che hai vinto le elezioni europee tu dici sostanzialmente prima delle elezioni europee qual è appunto il tuo spitz and candidat dopodiché appunto la commissione in accordo col consiglio vi discorrendo va più o meno a delineare quale sarà il il capo della commissione europea in questo caso è ursolo von der leyen tuttavia questo processo non è un processo democratico trasparente aperto ma è un processo se volete un pochino più farraginoso un pochino più opaco e diciamo non ha una procedura standard ecco quindi forse ci sta modificarlo loro dicono è stata creata per legittimare il presidente della commissione europea ponendo il parlamento europeo eletto di cittadino al centro del processo in nomine questa figura chiave perché chiaramente anche il parlamento europeo deve dare la fiducia tuttavia le prassi la prassi ha dimostrato che i capi di stato e di governo riuniti nel consiglio europeo hanno l'ultima parola appunto come vi descrivevo la prassi corrente limita l'efficacia del processo democratico ciò contribuisce a aumentare le distanze percepite tra i cittadini un'unione europea con dimostrato la scarsa partecipazione diretta dei cittadini europei alle elezioni boh sì può essere un punto anche qui dipende che riforma abbiamo a disposizione tutto sommato perché poi alla fine la fiera anche l'elezione del presidente consiglio è un'elezione tutto sommato opaca cioè non sappiamo sulla base cioè oddio pensiamo di sapere sulla base di cosa il presidente della repubblica vada a disegnare cioè c'è insomma un processo abbastanza standardizzato tuttavia il giorno dopo le elezioni nessuno avrebbe pensato che giuseppe conte sarebbe diventato appunto presidente del consiglio eccetera 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 anche se noi avevamo il capo politico quindi chiaramente anche qui c'è un elemento da considerare manteniamo una posizione neutra riguardo a questa proposta poiché attualmente non rappresenta una priorità della nostra agenda politica pur riconoscendo l'importanza del dibattito sulla democrazia eccetera 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 mi sembra che sia la posizione più giusta cioè non a prioristicamente non propongo nulla tuttavia mi pongo nella situazione in cui a me va bene sostanzialmente tutto basta che ci sia democrazia trasparenza vi discorrendo mi sembra un approccio molto più sano rispetto ad altri approcci che ho visto definiti nei vari partiti nei vari programmi politici perché appunto a seconda della situazione ok andrò a evidentemente a accettare o rifiutare questa nuova proposta si può fare appunto un'idea più federale alla bundestag o comunque che ricalca la germania si può avere appunto un'idea più accentratrice tipo quella francese insomma basta semplicemente chiarire che cosa vogliamo quali sono gli obiettivi e poi chiaramente sarebbe opportuno avere tutto in modo coerente ecco una cosa che poi non viene fatta a livello diciamo istituzionale di solito ecco sei favorevole l'introduzione di dazi doganali ambientali su prodotti fabbricati in paesi extra ue in modo inquirante non conforme agli standard imposti delle aziende dell'ue quindi ad esempio qua si cita la cibam fa piacere perché se vi ricordate nell'altro perché non loro dicevano appunto loro citavano un sottotesto rispetto a questa ciba ma io avevo detto porca miseria ma citala di piuttosto che perché appunto proponevano questa cosa poi questa cosa era già messa in atto mi fa piacere che abbiano esposto questo tema quindi buono tra l'altro io ho parlato anche con 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 nostra a proposito di questo elemento loro mi hanno detto no no la ciba ci stiamo lavorando sopra siamo siamo d'accordo vogliamo insomma lavorarci sopra capire meglio eccetera eccetera la conosciamo e via discorrendo quindi mi fa piacere che venga esposto questo elemento tra l'altro anche qui azione conosce conosce la ciba perché appunto calenda la la citava in occasione della live con ivan greco però io ho letto tutto il programma e non mi pare venga citata quindi anche questo un altro elemento interessante loro dicono il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere lo strumento dell'ue per imporre un prezzo al carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio serve per incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi il cibam è essenziale o la ciba per proteggere le aziende europee della concorrenza di quelle che operano in un'area del mondo con standard ambientali meno rigidi eccetera eccetera supportiamo l'implementazione per incentivare una produzione industriale più pulita fuori dall'ue per proteggere le aziende europee che devono aderire a normative ambientali più rigide ora qua in germania è proprio attivo tutto il processo del supply chain act ok attiva anche la fida c'è una verifica sulle supply chain in unione europea si sta andando verso questo indirizzo è praticamente attivo il problema della cibam è che appunto il gettito generato dovrebbe essere secondo la commissione nelle disponibilità della stessa in modo da alimentare appunto il debito comune europeo questa tassazione dovrebbe sostenere più che alimentare il debito comune europeo qua sarebbe interessante capire qual è la loro posizione c'è sto gettito a chi lo diamo punto di domanda secondo me quando dicono supportiamo l'implementazione eccetera 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 intendono dire che questo gettito dovrebbe essere nelle mani dell'unione europea può essere però una mia interpretazione se è favorevole una centralizzazione dei sussidi per la transizione energetica a livello e loro dicono la sfida per la transizione energetica è attualmente sopportata da ingenti sussidi statali questi sussidi sono però distribuiti dai singoli stati membri la mancanza di coordinamento tra i sussidi nazionali porta in efficienze limitando la produttività e l'efficacia complessiva delle politiche ambientali siamo favorevoli al coordinamento centrale dei sussidi per la transizione energetica boh sì è un punto un po' appiccicato secondo me perché chiaramente il coordinamento centrale ci può essere soltanto se appunto la commissione o il parlamento hanno maggiori poteri rispetto al consiglio altrimenti penso che il tutto verrebbe molto molto meno perché chiaramente ogni stato vuole avere la sua autonomia secondo me è un punto un po' da argomentare meglio perché non si capisce esattamente come si pensa di coordinare il tutto mi sembra che sia la stessa idea che avanzava a calenda della serie il pnr non va gestito a livello italiano ma va gestito a livello europeo non so nemmeno se la commissione europea ha le competenze la capacità per gestire un piano di quel tipo su tutta l'unione europea ed è per quello che un modello federalista secondo me sarebbe più efficiente tuttavia vabbè stiamo a vedere sono sicuro che ci racconteranno meglio questo punto però appunto non posso non dire che questa cosa è molto appiccicata lì come ultimo tema se favoreva la maggiore integrazione ai mercati dei capitali europei loro ci dicono che il mercato dei capitali europei rimane eccessivamente frammentato e sottodimensionato rispetto all'economia dei paesi membri dell'unione europea sono abbastanza d'accordo noi abbiamo comunque a livello europeo non una grande dimensione di imprese poi l'italia la grecia sono casi eccezionali in cui è molto più elevata la presenza di piccolissime imprese di micro dimensione chiaramente qua ci sono degli incentivi da parte dello stato italiano a rimanere estremamente piccoli la dimensione limitata del mercato dei capitali europeo limita gli investimenti ostacolo alla crescita economica riteniamo fondamentale completare l'unione del mercato dei capitali per restituire un unico mercato europeo boh anche questo mi sembra molto appiccicato perché anche qui se non fai crescere la dimensione d'impresa puoi completare quello che vuoi ma poi alla fine la fiera non tiene granché quindi boh peccato perché sarebbe interessante avere un come mi pare che nelle proposte non lo dicano ok perché infatti c'è un c'è un documento legato agli incentivi per la fusione tra micro imprese che non ancora ho letto e c'è un nuovo startup act che ancora non ho letto o forse sì questo forse l'avevo già letto comunque sia non non dicono esattamente cosa intendano come mercato dei capitali europeo io mi sento di dire che è migliorato tantissimo il programma rispetto a quello che leggevamo o comunque è migliorata molto l'esposizione dei punti programmatici rispetto a quello che leggevamo nelle scorse occasioni mi sembra che il partito nos stia andando verso una buona direzione chiaramente che qui è tutto da vedere ecco anche perché potrebbe essere che il giorno dopo l'elezione muoia questo partito non sarebbe un problema è ben inteso magari vengono assorbiti da qualche altra lista o qualche altro partito o semplicemente il fatto di non accedere al parlamento europeo potrebbe rappresentare un problema di carattere economico ok chiaramente qui io non glielo auguro ci mancherebbe come non auguro nessuno a nessuno ecco di non entrare all'interno del parlamento europeo secondo me comunque un bel progetto da seguire come si suol dire in questo ambito e staremo a vedere non ho gran che da aggiungere l'ultima volta insomma qualche punto mi aveva fatto storpiare il naso mi aveva fatto inorridire qua mi sembrano tutti i punti su cui magari possiamo avere delle opinioni differenti ma quantomeno ce le raccontano in modo molto molto più interessante ecco rispetto altri partiti politici a parte gli ultimi due punti direi che tutti gli altri otto sono ben argomentati con qualche sbavatura ok va bene nel senso magari si poteva fare di più adesso io capisco tutto le critiche l'ho anche avanzate però anche qui cerchiamo di distinguere quello che è accettabile da quello che è proprio palesemente mancanza di voglia nel raccortarci appunto gli elementi vediamo vediamo ecco piacevolmente colpito vediamola così questo è il mio giudizio conclusivo chiaramente che qua va valutato il tutto al netto delle persone che fanno parte appunto di questo partito e quindi vanno valutate le competenze va valutato il tutto su una serie temporale più più grande ecco devo dire però ripeto confermo il mio piacevolmente colpito grazie ancora Umberto per il tuo lavoro vado a farmi una pasta al pesto buona giornata a tutti andiamo a fare tutti una bella pasta al pesto oggi mercoledì domani vi ricordo alle 6 una l'ultima live della settimana con questo esponente di cateno deluca della lista cateno deluca sarà interessante discutere con lui insomma dei vari temi e dopodiché ci vediamo lunedì mi ricordo infine qui dal voto 2024 lo trovate su amazon gratis se fate kindle unlimited qua sotto in descrizione troverete tutte le istruzioni per ottenerlo in modo gratis modo gratuito ok ricordatevi di disattivare l'abbonamento prima di 30 giorni di scadenza altrimenti chiaramente vi parte l'abbonamento e magari vi partono i 9 euro adesso non so quanto costa al mese ecco state attenti da quel punto di vista se invece ve ne fregate ci sono i 7 euro insomma che costa oppure fate l'abbonamento perché a questo canale perché all'interno dell'abbonamento c'è anche appunto nella scheda community il libro quindi andate sulla scheda come se siete già abbonati lì c'è il pdf fate la richiesta e ve lo portate a casa gratis insomma va bene è tutto per oggi statevi discretamente bene ciao 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 Grazie a tutti